E' una bellissima manifestazione perché al di là del fatto che l'associazione utilizza i fondi che raccoglie per opere di bene, riesce anche a mettere in pista qualcosa come 20.000 ragazzi facendoli partecipare a una serie di circuiti, perché sono più diversi circuiti che si svolgono in tante località delle nostre Alpi, per cui fa sport, crea indirettamente un turismo, crea la conoscenza dei nostri territori, delle nostre bellissime stazioni alpine. Quindi credo che mettere insieme queste due cose, sport e solidarietà, sia fantastico. È il 29esimo anno che organizzano gare, quindi potete immaginare l'esperienza che hanno, si definiscono uomini che aiutano altri uomini, semplicemente in realtà il servizio che fanno, non soltanto nelle sociali ma anche nel mondo dello sport, è veramente tanto. In collaborazione con Fisi, con le Alpi centrali, insomma, organizzano più di 270 gare, insomma, e credo che questo sia veramente molto importante in un periodo in cui lo sport fa veramente fatica, in un momento in cui lo sport fa fatica anche a coinvolgere i volontari, quindi insomma, avere a disposizione un'associazione che organizza così tante gare è veramente molto importante. Grazie.